E poi invece io vi presento il grande libro dei maghi scritto dal mago gentile C'è anche la scatola, guardatela qua Scuola di magia con 80 stupefacenti trucchi Deve essere veramente molto carino perché ha un sacco di cose dentro Ne aveva scritto uno anche Casanova ma la Beffana si è rifiutata